Un anno di lavoro e il team dell'Istituto Bucci vola a Rotterdam, dove conquista il primo posto alla Scala Eco Marathon, la competizione dedicata agli autoveicoli ecologici a basso consumo, nella categoria GTL. 256 km percorsi con un litro, alla velocità media di 25 km orari. Un assegno di 1.500 euro che verrà riutilizzato per lo sviluppo dei veicoli dell'anno prossimo. Per gli studenti, invece, un'esperienza formativa che potrebbe aiutarli nel futuro ingresso nel mondo del lavoro. In pratica, dopo questa performance che mancava ormai da 10 anni, aver vinto 1.500 euro per noi è qualcosa che ci assicura la possibilità di partecipare anche il prossimo anno, anche se il budget deve essere integrato poi dai sponsor tecnici e finanziari che ogni anno ci aiutano. E quello che succede, in pratica, è che adesso, dopo la gara, saremo invitati a delle fiere, a delle manifestazioni, più che altro per testimoniare l'impegno degli studenti e anche il risultato ottenuto. Ci sono stati dei problemi, là in Olanda, oppure hanno avuto affilato liscio? Si prendeva di partire per la gara e avevamo stretto tutte le vite, avevamo controllato tutto e poi durante abbiamo perso pezzi e quindi arrivati alla fine strisciava tutta la trasmissione e dopo ci eri ritoccato a far tutto da capo. Quindi quanto tempo avete perso per fare tutti i lavori? Ho detto due, poi abbiamo dovuto chiedere a diversi team altri pezzi perché ovviamente non li avevano forniti e quindi è stato un po' così. Qual è lo scopo del pilota e il suo compito? Sicuramente quello di ottimizzare i risultati del veicolo. Per far questo bisogna conoscere meglio le caratteristiche, quindi sia quelle del motore diesel che del motore elettrico. Quindi saper sfruttare bene le accensioni con il motore elettrico senza poi andare magari a scaricare troppi supercapacitori perché altrimenti non si ricaricano più e la prova non è valida. Qualche accorgimento durante la corsa mentre la macchina è in moto da seguire? Beh, quest'anno il circuito rappresentava molte curve quindi anche sapere far scorrere la macchina è importante per migliorare sempre il risultato. Quindi ci vuole anche una discreta sensibilità? Beh sì, bisogna stare molto attenti anche visto che ci sono le altre macchine in pista. Parliamo della squadra. Quest'altro anno appunto riparteciperete, ci sarà una sorta di ricambio generazionale perché alcuni studenti abbandoneranno o magari si dedicheranno agli studi perché vanno in quinta e quindi ci sarà da allevare le nuove leve. Esatto, in pratica ogni anno all'inizio a settembre si iscrivono i ragazzini sia dalla prima che dalla quinta quindi quest'anno abbiamo avuto per esempio 40 iscritti però diciamo che lasciamo liberi di scegliere i ragazzi di quinta perché hanno da affrontare l'esame di maturità e quest'anno per esempio partecipava solo il pilota. Poi diamo preferenza ai ragazzi di quarta e di terza perché sono tecnicamente più preparati lasciando ai ragazzini di prima e di seconda se non vengono selezionati per partecipare alla gara alla partecipazione degli anni successivi. E quindi qui viene fuori il lavoro di voi professori? Gli insegnanti diciamo che a tempo perso se vogliamo, cioè oltre all'orario di servizio si dedicano a questo progetto gli insegnanti che ho accordi non sono praticamente quattro cioè il professor Graziani, il professor Brunetti, il professor Selimbani che sono io e il professor Fiorillo che è un insegnante in pensione che però continua ad aiutarci anche oltre diciamo questa possibilità diciamo di poter costruire veicoli e vengono anche ex studenti e altre persone esperte che ci danno una mano ex studenti che attualmente lavorano alla Riba o alla Torro Rosso. Quindi diciamo è veramente un'esperienza formativa, lei appunto ha fatto il caso di un ex vostro studente che adesso lavora alla Torro Rosso quindi diciamo serve anche poi in futuro a trovare uno sbocco nel mondo lavorativo? Direi di sì, cioè qui i ragazzi imparano a essere responsabili dei lavori che fanno ci mettono impegno e soprattutto sanno che ogni manufatto, ogni piccolo particolare è importante per raggiungere un risultato e questa è una qualità importante che serve anche per entrare nel mondo del lavoro per cui chi lavora in queste aziende in cui è importante il risultato devono fare affidamento appunto a ragazzi e a persone che ci dedicano impegno e hanno un senso di responsabilità su quello che fanno. Mentre invece l'esperienza in sé, una settimana in Olanda, in tenda, come è andato? Da un punto di vista appunto da te, di ragazzo, giovane? È stato molto bello anche se il primo giorno ha piovuto, si era allagato tutto, valigie quindi tutti vestiti e bagnati però dopo è venuto il sole e ci siamo rifatti. È stato bello. La notte cosa facevate? Ma si girava, poi una sera c'era stata una festa e il resto stavamo, a volte lavoravamo prima delle verifiche e poi dopo, a volte uscivamo anche. Era più la tensione oppure andiamo una settimana in vacanza a Rotterdam? No, è stata più tensione perché la sfida c'era e la sentivamo però quando era il momento di svagarci, ci divertivamo anche. Federico Leghe per Fenza Web TV